La performance natale Il consiglio vivamente l'ha riscoperta dalla figura di Luigi Eussolo Passando poi per gli anni Sessanta, con il termine Happening coniato da Alan Kaprov Pochissimi invece ricordano Gerd Stern e la sua Usco Intermedia Foundation Dove il concetto di performance si arricchide il suo aspetto multimediale E per questo vi suggerisco la lettura di Electric Cool Acid Test di Toon Wolf Dunque, da un lato abbiamo tradizionalmente un'azione d'arte con aspetti interdisciplinari Che non è né riproducibile né vendibile Dall'altro lato, nel caso del teatro, fatte tutte le innumerevoli e debiti, eccezioni Abbiamo una forma d'arte all'interno di un sistema di regole più cogenti Quali la frontalità e la distanza dell'azione rispetto al pubblico L'uso della parola, l'aspetto narrativo dell'opera, eccetera Quindi il binomio performance-teatrale provoca una sorta di cortocircuito Un'ambiguità e anche un movimento tra due poli storicamente opposti Che acquista un significato nel momento in cui, per tornare a mia nonna, si atteguisce un peso maggiore ad uno dei due termini Se il soggetto è performance e teatrale è l'aggettivo Allora mi aspetto che la performance in questione abbia un aspetto mutuato dal mondo del teatro Che sia quello narrativo, dialogico, via dicendo Se invece nel binomio teatrale il soggetto è performance l'aggettivo Allora probabilmente si intende un'opera teatrale nella quale sono previsti aspetti performativi Multidisciplinari, non riproducibili allo stesso modo nelle varie repliche dello spettacolo Oppure di luogo, insomma, che lo spettacolo non sia tra le parti di un teatro, eccetera